No al razzismo perché noi vogliamo dare bellezza e bontà alla vita e il razzismo la riempie di cattiveria di quotidianità. Noi vogliamo vivere in libertà, il razzismo imprigiona la mente nell'ideologia e il cuore nell'obbriacatura, noi vogliamo una società che sia ricca di umanità, perciò accogliente, inclusiva, che guadalizza delle differenze, una riccazza comune e invece il razzismo è divisivo, è escludente e uccide le differenze. Noi vogliamo una cultura della vita, noi vogliamo una civiltà dell'amore, è quello che diffonde la cultura dell'odio. Noi siamo abituati poi con la Fondazione Madre a cercare un mondo uno, un mondo condiviso, quello invece è un mondo diviso e ostile e contrapposto. Io poi sono un credente e vorrei un Dio padre e quello invece è il padrone. Grazie a tutti.